Il mercato dei big data ha un trend in decisa crescita. Molti sono gli investimenti sia per il miglioramento dei processi interni, servire meglio i clienti che ho già, che nella ricerca e acquisizione di nuovi, anche in relazione ai profondi cambiamenti nelle abitudini e aspettative di acquisto dei consumatori. Le imprese potranno trarre beneficio da informazioni statistiche più approfondite e aggiornate, sfruttando il know-how sulla gestione di grandi quantità di dati, big data, infrastrutture cloud, sofisticati algoritmi di analisi statistica, analytics e dei big data telefonici, mobile network data presence and mobility. Con Team Data Retail Analysis è possibile avere informazioni dell'utenza radiomobile di Team intorno al PDV sia come provenienza che destinazione e la presenza nell'area del punto vendita. Le informazioni degli analytics di Data Retail Analysis forniranno insight utili. Sarà quindi possibile apportare modifiche al layout del punto vendita, alla tipologia e la gamma dei prodotti offerti, alla gestione dello staff, alle facility del punto vendita e alle azioni di loyalty. L'offerta Team Data Retail Analysis è modulare, ideata per offrire i servizi necessari a ciascun utente, e si compone di analisi di presenza, analisi di densità della popolazione, analisi di mobilità, per capire provenienza e destinazione nello spostamento degli utenti, analisi di performance benchmarking e infine azioni di geomarketing. Il profilo Team Data Retail Analysis permette l'analisi della presenza dell'utenza mobile di Team mediante dashboard, mappe video e report. Si compone di presenza base profilata e mobilità. Copertura territoriale dei dati utenti mobile Team pari all'estensione contrattualizzata. Analisi di presenza giornaliera. Tale funzionalità consente di avere a disposizione i dati ogni 15 minuti, near real time per i precedenti 30 giorni e successivamente a granularità oraria per i successivi 11 mesi. Mobilità di provenienza per area censuaria Istat, con frequenza 15 minuti. Mobilità di destinazione per area censuaria Istat, con frequenza oraria. Possibilità di importare i dati e di richiedere fino a tre fonti Open Data. Utilizzo di dati social attraverso sonde su Twitter. Presenza profilata e nazionalità, che permettono analisi della presenza su profili specifici della popolazione. Nazionalità degli utenti esteri in roaming sulla rete mobile di Team. Classi d'età, sesso e tipologia utenza, business o consumer, che identificano categorie di particolare interesse per i clienti retail. Le informazioni vengono fornite mediante dashboard geolocalizzate nell'ambito del territorio contrattualizzato e mediante report su base giornaliera, settimanale, mensile. Sono molti i vantaggi dell'offerta, da quelli più legati all'analisi near real time del modello di pedonabilità, all'orientamento della propria offerta verso target identificati, alla verifica del ritorno degli investimenti pubblicitari. Grazie a tutti.